PEGI 7 SEGA È l'ora delle legate! Dove vivrete quando il vostro pianeta non esisterà più? Neanche voi esisterete più! Anch'io eviterei di lavorare con i miei tuoi acerri, i miei nemici! Beh, lavorare insieme a te sì che è la fine del mondo, Eggman! Preferivo di gran lunga quando cercavo di farmi il cuore! AQUILA NOTA ATEROIDE ATEROIDE HA! Raggiù è dove finirete voi! Cominciamo a fare sul serio, porco руco! Grazie a tutti. Grazie a tutti.